Ragazzi, oggi si festeggia la fine del Ramadan. Che cos'è per voi il Ramadan? Il Ramadan è un mese molto importante con noi, con la settimana, perché noi dobbiamo fare tanti pregare. Quando noi abbiamo lasciato il nostro paese, per venire qui. E da dove viene lei? Io. Sì, Gambia. Gambia? Lui, Senadale. Senegal? Tanti, tanti. Sì. Bacaldes, Pakistan. Questo è un mese molto importante. Capito. Voi lavorate in zona? No, non è. Per voi questo è un punto di riferimento, la comunità islamica di Marangeli.